Ciao a tutti! No, scherzavo, la capo Ciao a tutti, ciao a tutti! Io sono Kate e io sono Nea E oggi faremo questo video... No, veramente Ciao a tutti! Io sono Kate e io sono Nea E oggi faremo la Whisper Challenge In che cosa consiste? Ah, devo dirlo io? La Whisper Challenge, in pratica, consiste nel... Una persona, in pratica, ascolta la musica Quindi non si sentirà niente di ciò che l'altra persona dice E in pratica devi indovinare ciò che la persona dice Quindi, si è capito? Yes! Iniziamo! Inizio io, da qua, già metto i capi Cioè, neanche io lo sapevo, mai inizio Anche io lo sapevo, facciamo carta forbice Eh, grazie! Carta forbice sasso! Cazzo faccio scherzo Ops! Non faccio le compie Allora... Allora... Io? 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 Sono andata... Eh? Sono andata... Sono andata... A Catania All'Alzalena Perché? Perché? Ah! Perché? Perché? Mi piace... Io sono andata perché? Che senso ha? Perché mi piace... Io sono andata perché? Mi piace... Mi piace... Verde... Venire... No! Sono scusate! Verde... 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 Quindi... Ripeti... Ripeti... Bene? Io sono andata perché? Ti voglio bene... Qual'era la frase? Io sono andata perché ti voglio bene... Io sono andata a Catania... Perché? Mi piace il verde... ha più senso la mia frase che l'ho sentito che la sua premetto prima una cosa prima di dire la frase è lei che in pratica io non sapevo dire la parola psicologo in prima superiore per questo è il solo tipo io ho vent'anni ho invitato ho vent'anni ho inventato ho vent'anni e ora so dire cosa? ora so dire ora so dire ho un giorno ho vent'anni e ora so dire e ho ragione e ora e ho cura e ora so dire ho giovedì la parola psicologo la parola psicologo vai cos'è che hai capito? io ho vent'anni e ho non mi ricordo più paola dello psicologo la vera frase invece è io ho vent'anni e ora so dire la parola psicologo beh ce l'ho quasi ce l'ho quasi uno uno due tre ciao a tutti io sono Kate e io sono Nea e oggi faremo la we spend' questo tutto